Siamo nel cortile del castello di una volta della famiglia Arditi, già sindaco, per dieci anni, otto anni fa. E qui tra l'altro oggi nasce una nuova etichetta di vino che hanno chiamato Cinque Quinti perché sono cinque fingi e hanno inventato queste etichette. La c'è, dovete cercare la salva. Io non ho preso di guidarmi, insomma con qualche rischio. Però... Io non ho preso di guidarmi. Ma ne vado. Ciao. Ciao. Vi ho portato qui la mozzarella. Bravo. Fate un po' di foto così le mettete su Facebook. Vedo che mettete poco su Facebook. Come? No, 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 no. Mi sentìmo. Devo proseguire. Io sono riferato. Non ci provare a abbassare il libro, a guardare me so, vedi? Paolo così... Adesso lascio il libro. Grazie.